ovviamente nel supporto di Overflow per questo passaggio, il concepto di navi rende assolutamente senso perché li collegano i hoteli e ovviamente quando la competizione è finita non hai tutta questa construzione che eventualmente bisogna guardare. È una opzione sostenibile da parte dell'accomodazione, potremmo abbastanza e opzioni diversi per i fanzi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.